Buongiorno ragazzi, sono Mr. Boscherini e per la nostra unità sul piano cartesiano oggi andremo a vedere le rette parallele e le rette perpendicolari. Quindi, quale sarà l'obiettivo della lezione di oggi? Per tutto, vedere quando possiamo dire che una retta è parallela o meno a una retta data, cioè, data una retta nel piano, come facciamo a identificare le rette ad essa parallela? Poi, chiaramente, stesso discorso, data una retta nel piano, come facciamo a dire che un'altra retta è ad essa perpendicolare? A quel punto poi generalizzeremo i risultati ottenuti per vedere come possiamo automaticamente definire il parallelismo o la perpendicolarità sulla base del coefficiente angolare delle rette coinvolte. E, come al solito, per capire bene di che cosa stiamo parlando, cominciamo con un esempio. Quindi, consideriamo due rette. Una prima retta di equazioni y uguale a 2x e un'altra retta di equazioni y uguale a 2x meno 3. Cominciamo con la prima retta, la vogliamo disegnare. Come al solito facciamo una nostra tabellina a doppia entrata, no? y e x, va bene? Molto velocemente. So che per x uguale a 0 la y sarà uguale a 0. Questa era ovviamente una retta passante per l'origine. E poi per x uguale a 1 abbiamo y uguale a 2. E quindi vado a disegnare la prima retta. Quindi, punto 0, 0, eccolo qua. E il punto 1, 2, eccolo qua. E con l'aiuto del mio righello disegno la mia prima retta, va bene? Eccola qua. Questa è la retta y uguale a 2x. Alla stessa maniera vado a disegnare la retta y uguale a 2x meno 3. Di nuovo faccio una tabella a doppia entrata, la disegno qui, così, un po' più spazio dopo. Quindi x e y, la mia tabellina, per x uguale a 0, y uguale a meno 3, no? Questo infatti è cosiddetto y, cioè sempre il termine noto. Per x uguale a 1, usiamo gli stessi valori della x. Cosa abbiamo? 2 per 1 che fa 2, meno 3 che fa meno 1. Quindi questi sono i due punti per i quali passa la mia retta. Quindi andiamo a disegnare questi punti, quindi 0 meno 3 è questo punto qua giù. E 1 meno 1 è questo punto qui, va bene? E di nuovo con l'aiuto della mia retta, del mio righello, disegno la retta. Allora, è evidente che queste due rette siano tre esse paralleli. D'altra parte è un risultato che ci dovevamo aspettare, perché? Perché cosa hanno in comune queste due rette? Hanno lo stesso coefficiente angolare, 2 per entrambe. Abbiamo già visto che il coefficiente angolare non è altro che un parametro che esprime la pendenza, la slope della nostra retta. Quindi è chiaro che su due rette che hanno esattamente il stesso coefficiente angolare, avranno la stessa pendenza. E come tali saranno parallele. Vediamo allora di generalizzare il risultato che abbiamo appena ottenuto, definendo quella è una legge in base alla quale possiamo dire se due rette nel piano cartesiano sono parallele. Due rette sono parallele se hanno lo stesso coefficiente angolare. E giusto per fare un altro esempio, consideriamo appunto le rette y uguale a meno 5x più 3 e y uguale a meno 5x meno 7. Sono due rette diverse, ma hanno lo stesso coefficiente angolare, in questo caso meno 5, e quindi se le vado a disegnare nel piano cartesiano vedrò che esse sono tra di loro parallele. Ora prendiamo ad esempio altre due rette. Quindi cos'hiamo due rette? La prima di equazione meno 2x più 1 e la seconda di equazione y uguale a un mezzo x meno 2. E come prima andiamo a disegnare. Vediamo se si scopre qualcosa riguardo a queste due rette. Come prima costruisco la tabella a doppia entrata per la prima equazione. Questa volta la disegno sempre qui, vai. x, y E faccio la stessa scelta, no? x uguale a 0, per x uguale a 0, y sarà uguale a 1 e per x uguale a 1, ok? Cosa mi viene? Meno 2 per 1 che fa meno 2, meno 2 più 1 fa meno 1. E questi sono i due punti che mi permetteranno di disegnare la prima retta. Allora, il punto di coordinate 0, 1 è qua. C'è un bello grosso, si vede bene. E il punto 1, meno 1 si trova qui, qui. Eccolo qua. Nuovo, con l'aiuto di un righello andiamo a disegnare questa prima retta. Eccola qua. Ok. Questo risultato non mi deve stupire perché, come vedete, il coefficiente angolare è negativo, quindi ho una pendenza, questa volta, della mia retta verso sinistra. Ora andiamo a disegnare la seconda retta. Scrivo di nuovo la mia tabella a doppia entrata. La faccio qui questa volta. x e y. Comincio, come al solito, assegnando i valori x uguale a 0. Questo mi permette di trovare l'intersezione con l'asse delle y. Quindi per x uguale a 0, y uguale a meno 2. E stavolta, invece, però, per il secondo valore non sceglierò uno. Perché? Perché ho un coefficiente angolare che è una frazione. E, come ho detto già in altre occasioni, qui vi consiglio di scegliere un valore che mi renda tutto questo termine qui, in questo caso un mezzo x, un intero. Quindi la scelta migliore è prendere, come valore delle x, lo stesso valore del denominatore, il denominatore è 2. Quindi metterò x uguale a 2. Ok? Per x uguale a 2 cosa succede? Un mezzo per 2 fa 1. 1 meno 2 fa meno 1. Ed ecco qui i due punti che mi permetteranno di disegnare la seconda retta. Allora, ecco i miei due punti. Allora, cominciamo. 0 meno 2 è questo punto qua in fondo. E 2 meno 1 è questo punto qua. Ecco, questa volta invece di usare il righello, il righello l'ho tenuto esattamente come era prima. Questa volta io prendo questa squadra e notate come se... Aspettate. Ecco fatto. Scendiamo un po'. Così si può disegnare il resto della... Ecco fatto. Ecco. Se l'appoggio qui in modo da disegnare la mia seconda retta, vedete anche come la mia squadra si appoggia al righello di prima. Ora vedremo cosa significa questo. 1, 2, 3. Ed ecco la mia retta. Ecco. Cosa notiamo riguardo a queste due rette? Da parte il fatto che chiaramente non sono parallele, ma questo ce lo dovevamo già aspettare perché non hanno stesso coefficiente angolare. Ma qui possiamo dire qualcosa di più. Che queste due rette formano, e lo posso verificare semplicemente prendendo di nuovo il mio... la mia squadra, che queste rette formano quattro angoli di 90 gradi, che è proprio la definizione di rette perpendicolari. Quindi, torniamo un attimo alla... a queste rette. E' chiaro che se io devo parlare di parallelismo e perpendicolarità, io non sto a guardare il terminato. Sto a guardare il coefficiente angolare. Cosa hanno di particolare il coefficiente angolare di queste due rette? Intanto, prima di tutto, notate come uno è negativo e l'altro è positivo. Quindi, prima cosa fondamentale, se voglio vedere se due rette sono perpendicolari, devo vedere che i coefficienti angolari devono avere il segno opposto. Ma poi devo notare un'altra cosa, che questo ha il coefficiente angolare 2, a parte il segno, e questo ha il coefficiente angolare 1 mezzo. Cioè, a parte il segno, 2 e 1 mezzo sono quelli che noi chiamiamo l'uno inverso dell'altro, no? Cioè, che so, l'inverso di 3 è 1 terzo. Oppure, se io avesse una frazione tipo 2 terzi, l'inverso di 2 terzi è 3 mezzi. Cioè, due cose, e questo è poi quello che noi scriveremo nella nostra regola generale, è che per avere due rette che siano perpendicolari non solo devono avere i coefficienti angolari che siano opposti come segni, ma devono essere uno l'inverso dell'altro. E in questo caso, 2 e 1 mezzo. Quindi sono questi due coefficienti angolari, sono non solo opposti di segno, opposti, ma sono anche inversi. E c'è un termine matematico per definire due grandezze, due numeri che sono sia opposti che inversi. Ecco, a questo punto siamo in grado di definire una legge generale per rette perpendicolari tra di loro. Noi diremo che due rette sono perpendicolari, se loro coefficienti angolari sono l'uno il reciproco. Ecco, questa è la parola che stavamo cercando. Reciproco significa sia opposto che inverso. E di nuovo vediamo un esempio. Così abbiamo la retta y uguale a meno 5x più 3. Ecco, la retta y uguale a un quinto x meno 7 è ad essa perpendicolare. Perché? Prima di tutto perché i due coefficienti angolari hanno segno opposto. Questo è negativo e questo è positivo. Non solo. Se io prendo 5, che noi possiamo rappresentare come frazione come 5 primi, se io vado a invertire, cioè scambiare tra di loro numeratore con denominatore, otterrò esattamente un quinto. Chiaramente in classe faremo diversi esercizi per identificare rette tra di loro, parallele perpendicolari, ma per oggi possiamo chiudere qui. Quindi arrivederci da Mr. Boscherini. Grazie.